Buon sabato Stray, sabato 25 novembre, ripartiamo dalla tredicesima giornata e dopo due settimane di sosta nazionale, che sapete per me che purga la nazionale, andiamo agli europei all'italiana, andiamo agli europei all'italiana con una bella magia al 92esimo, quando l'albitro non dà il rigore all'Ucraina, rigore netto, nettissimo, siate onesti intellettualmente perché se la mia squadra non dà un rigore del genere io impazzisco, poi tutti quelli che sento, anche youtuber, vedo un sacco di video dove dicono, quello cade già prima, si vede che si butta prima, statevi zitti, se non danno il rigore alla vostra squadra fate un casino della madonna, come l'avrei fatto io, se a me non danno un rigore del genere io impazzisco, comunque va bene ormai è andata, passiamo al Lecce Nostro, il Lecce Nostro che gioca lunedì, quindi ancora abbiamo da aspettare un poco, due giorni, quindi guardiamo un attimo le nostre contendenti diciamo, si parte oggi con Salernitana, cioè in poche parole c'è Salernitana-Lazio, le due romane giocano contro Salernitana e Udinese, io sapete, lo dico un sacco di volte, sulle romane io non ci scommetto neanche un euro perché per me non sono squadre che possono ambire a posizioni, diciamo, che per me non sono proprio, non si possono mettere in competizione con l'Inter, l'Iventus, anche Milan, e a proposito di Milan, ieri sera guardavo Mauro Suma a top calcio, ancora sta piangendo per il suo Milan a Lecce perché doveva vincere, meritava la vittoria perché lui ha visto solo i primi 35 minuti, non ha visto il resto della partita dove l'abbiamo preso a martellata, mamma mia che giornalista, a me quei giornalisti ipocriti danno fastidio davvero, l'ipocrisia del giornalista Mauro Suma a me dà fastidio, è proprio intellettualmente disonesto, lui difenderebbe il Milan anche davanti alla moglie, se deve difendere il Milan anche a discapito della moglie lo farebbe tranquillamente, ma la disonestà intellettuale che a me dà fastidio, quello proprio dà fastidio, tutti hanno visto che il Milan ha giocato per 35 minuti e il Lecce poi l'ha sopraffatto per gli altri 60 minuti, lui dice che la partita doveva vincere, io dico che la partita l'ho vinta, poi in cause di forza maggiore non ci hanno, diciamo, potenze, alte potenze non ci hanno permesso di vincere quella partita, va bene, ce ne andiamo con un pareggio, ma adesso basta Mauro Suma, basta piangere, basta comunque dicevamo, Salernitana, Lazio alle 3 oggi pomeriggio e domani alle 18 Roma Udinese Roma Udinese, signori l'Udinese è andato a vincere a Milano, certo, Milan ha avuto un sacco di occasioni, ma la Roma non è il Milan, se l'Udinese è andato a vincere a Milano non vedo perché non possa farlo domani a Roma, io della Roma non mi fido, l'ho vista anche giocare contro il Lecce, è una squadretta da ottavo posto, nono posto, non di più, la Lazio ha qualcosa in più della Roma, sì, ha qualcosa in più della Roma, almeno ha un gioco, ecco, la Roma non ha proprio un gioco, la Roma si basa su Di Bala e Lukaku e spera in un colpo di qualità, mentre la Lazio ha proprio più qualità nel gioco, però non ingrana, non sta riuscendo ad ingranare. E poi abbiamo Cagliari Monza, domani alle 12 e mezzo, sapete come la penso, io, il Cagliari a me sta simpatico, a prescindere dalla classifica e io i Cagliari Tanni li vedo come i Leccesi, uguali uguali, quindi sperare in una loro sconfitta a me, cioè non ci riesco proprio, è qualcosa che va oltre i miei limiti. E poi, qual era l'altra partita? No, vabbè, Frosinone e Genoa non la vedo come una partita che può interessare noi. Frosinone sta facendo un campionato come il nostro, quindi per me Frosinone e Genoa io non la vedo proprio. Ah, è l'Empoli, Empoli Sassuolo. E io, ripeto, l'Empoli per me non è una squadra che scenderà in Serie B, è una squadra molto più matura di, proprio come qualità anche, di Salernitana e anche ahimè del Cagliari, però il Cagliari in ripresa, mentre l'Empoli in casa soprattutto io lo vedo pericoloso, per me l'Empoli è pericoloso e non scenderà. Io l'unica cosa che dico, tutte queste cose che ho detto fino adesso, no? E sul Salernitana e Cagliari, Sassuolo e se il Lecce dovesse vincere a Verona non ce ne frega niente di che cosa fanno loro. Ma vi dirò, anche un pareggio va bene, perché comunque lasci il Verona impelagato nei suoi problemi e sarà un casino per il Verona, perché se poi il Verona va ad esonerare Baroni, poi il nuovo allenatore da lunedì fino a domenica avrà solamente 5, perché poi tocca un giorno di riposo ai giocatori, avrà solamente 5 giorni per lavorare con i suoi nuovi giocatori e quello sarà un grosso problema. L'allenatore se lo dovevi esonerare, lo dovevi esonerare prima della sosta, ma il Verona non ci è arrivato a questo. Ragazzi, forza Lecce! Ragazzi